Come sappiamo il Napoli sta cercando un nuovo allenatore per la prossima stagione. Tra i veri nomi che sono usciti c'è stato anche quello di Stefano Pioli. Sembra che De Laurentiis abbia pensato a lui, Stefano Pioli che molto probabilmente non sarà riconfermato sulla panchina rossonera. E ovviamente tra le preferenze di De Laurentiis non c'è solo Pioli. Il sogno comunque a quanto pare è quello di riuscire ad avere Antonio Conte. Però qualche giorno fa appunto c'è stato, si è fatto il nome di Pioli. Io voglio chiederti se secondo te Pioli può essere l'allenatore giusto per il Napoli. Napoli che non può assolutamente sbagliare l'allenatore il prossimo anno, visto insomma quello che è accaduto in questa stagione. Insomma Napoli è arrivato ad avere tre allenatori diversi nell'arco della stessa stagione. Quindi possiamo dire che il prossimo anno l'allenatore non può sbagliarlo. Scrivi nei commenti che cosa ne pensi di quest'idea probabile di poter vedere Stefano Pioli sedere sulla panchina del Napoli. Scrivi le tue opinioni nei commenti. Ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!